Questa sera in questa parte così bella del centro storico di Pescara, Piazza Garibaldi, che questa sera non è tormentata, come in genere occupata quasi tutte le sere, da frastuoni di vario genere, ben noti purtroppo che all'esercizio in questa zona, ma che offre un momento, speriamo, gradito, un momento di politica ma anche di cultura, che la Fondazione Europa Prossima e la Scuola di Regione hanno voluto organizzare provando un convegno attorno alla presentazione di un libro molto bello, molto vivace, brillante, sferzante come è l'autore, nel senso sferzante, brillante, bello poi per un altro paio di maniche, che ognuno valuta come vuole, che è il libro di Claudio Cerasa, che le catene della sinistra, lo vedete nella grafica, e abbiamo pensato di scegliere come, il titolo per questo convegno è proprio questo tema, rompiamo le catene, ma quale catene? Quelle catene che negli ultimi 20 anni, l'autore fa cominciare il tutto attorno al 92, al momento del rivolgimento, della fine della prima repubblica, hanno vincolato la buona politica. È tutto un libro che poi riguarda molto spesso principalmente i problemi in questa parte, c'è del centro-sinistra politica italiana, ma è tutto un libro che potremmo vedere come l'analisi della vecchia politica versus quella che potrebbe essere la buona politica. Allora ci è sembrata una bella occasione per riflettere con protagonisti, diciamo, dei giornali, protagonisti delle istituzioni per ragionare sui limiti della stagione passata, che si sta metamorfizzando nel presente, sulle prospettive per la buona politica. Io quindi darei subito la parola per l'introduzione a un politico illuso e lungo corso, a esponente del governo, che è l'onorevole Giovanni Vennini. A lui la parola, grazie. Grazie Marco, buonasera a tutti, grazie per questa bellissima e numerosa presenza, soprattutto benvenuti ai nostri ospiti importanti e graditissimi, e innanzitutto all'autore, che insomma, a Claudio Cerasa, che mentre adesso riflettevo, adesso che dico di Claudio Cerasa? Mi è venuto in mente un indice di produttività, diciamo così, la combinazione tra la sua giovanissima età e la sua brillantissima produzione giornalistica, quotidiana e letteraria fa un ottimo indice di produttività. Lo stesso indice di produttività del mio amico Rugalotti, che non ha bisogno di presentazioni, che si cimenta quotidianamente in questa difficilissima arte del governo, di cui suppongo avremo modo di parlare durante questo pomeriggio, bentornato al nostro grandissimo direttore vicinanza, per cui siamo affezionatissimi per la sua direzione del quotidiano Il Centro, adesso Luigi Finegil, che è un gruppo importante, lui ama sempre dire che è il giornale più letto in Italia, Finegil, ma non troviamo né l'edicolo Finegil, troviamo una pluralità di... E ovviamente un saluto affettuoso a Marco, al Sindaco, a Tony e al nostro Presidente. Caro Presidente Luciano, scusatemi questa carrellata, ma insomma, per affiatarci un po', anche perché il compito che mi ha affidato Marco è un compito complicato, perché insomma esporre una tesi dopo che su un tema che costituisce, sull'oggetto di questo importante libro che ha fatto moltissimo discutere da quando è stato pubblicato, che il cui contenuto è una tesi forte, molto ben strutturata, molto argomentata, efficace, che si legge peraltro molto bene, e esporre una tesi su una tesi è una cosa molto complicata, insomma, ne posso attardarmi ovviamente a chiose, perché insomma rischierei di sminuirne il valore, mentre invece, poiché questo libro è un libro vivo, peraltro mi permetto di annotare e di dire che meno male che l'hai pubblicato a fine aprile, se non ricordo male, perché se avessi aspettato qualche settimana con il risultato elettorale del 25 di maggio sarebbe stato più complicato, diciamo così, presentare un prodotto editoriale che a quel punto avrebbe avuto un'ugente necessità di rapidissimo aggiornamento, questo è... come no, è un piacere. non è un caso, cioè, è uscito il 7 maggio e dopo due settimane il PD ha preso il 41%, non è esattamente una demissia. Però, siccome ho letto il libro, ho letto qualche altra cosa, perché cerco di essere diligente, quando ho fatto... ho letto una tua intervista di qualche giorno prima delle elezioni del 25 di maggio, e tu, se non ricordo male, me lo sono appuntato, dicevi che in un paese normale, una sinistra normale, mediamente dovrebbe prendere il 40%, diciamo. E però aggiungesti che, secondo le due previsioni, che peraltro erano larghissimamente diffuse, anche presso i sondaggisti, se il PD avesse preso il 25 di maggio il 33%, sarebbe stato un ottimo risultato, credo che lo qualificasse esattamente così, e che non credevi affatto che noi potessimo arrivare a questo fatidico 40%. E invece, grazie a Matteo Rezzi, al Partito Democratico, alla battaglia di tutti, questo risultato è arrivato, quindi tu hai aperto la strada, diciamo così, e quindi è un libro molto importante per questo. e dico solo relativamente al contenuto, poi faccio qualche annotazione politica conseguenziale alla tesi, diciamo così, che il libro ha una fortissima carica, come diciamo noi giuristi, destruenz, diciamo di destrutturazione, non voglio dire che costituisce una declinazione della rottamazione, ma insomma qualche rapporto vivo c'è, tra quella parola e le catene che tu descrivi dentro, naturalmente ciascuno di noi può apprezzare o meno il carattere enfatico o fondatissimo o meno fondato, ma insomma che quei problemi ci fossero, questo mi sembra abbastanza chiaro. ma noi non possiamo pretendere da un giornalista, da uno scrittore, ci mancherebbe altro che noi i dirigenti del Partito Democratico prendessimo questo non affronti o lo affronti in via indiretta, in modo conseguenziale, diciamo così, dato degli input, ovviamente, la parte costruenz, cioè spensate le catene e che cosa c'è da fare e siccome mi interessa molto sottolineare questo aspetto a conclusione di questo mio brevissimo intervento introduttivo lo richiamo per dire che l'efficacia della parte distruttiva, diciamo così, per essere più a quell'efficacia bisogna che si accompagni una parte costruttiva, propositiva. Io non amo fare citazioni ma frequentando adesso ancora di più Luciano insomma sono costretto a fare io e lui ormai da un po' di tempo battagliamo sul fatto che lui cita sempre i santi io sistematicamente dico che con il massimo rispetto che non sono competitivo su questo terreno ma comunque mi capita pure a me per poterla argomentare e quindi mi è venuto in mente ho avuto qualche reminiscenza di una bella a proposito di quel carattere forte di questo libro di una bella poesia di Montale che diceva solo due righe mi leggo cioè codesto solo oggi possiamo dirti all'epoca 28 aprile fine aprile ciò che non stanziamo ciò che non vogliamo all'epoca e poi la parola passava a noi passava al Partito Democratico e la parola è stata presa il diritto di parola è stato esercitato innanzitutto lo hanno esercitato i cittadini italiani con il risultato senza precedenti che tutti quanti noi conosciamo che ciascuno con il suo voto ciascuno con una quota di impegno ha contribuito ma certo con l'effetto di trascinamento attrattività del Presidente del Consiglio e segretario del partito e poi sono accadute delle cose forse è difficile rintracciare su questo forse non solo Cerasa ma anche l'unice vicinanza potrebbero esserci d'aiuto un rapporto così ravvicinato da un punto di vista temporale tra l'esposizione di una tesi in un libro ma anche se vogliamo in un articolo e gli accadimenti successivi questa è la cosa che mi colpisce di più quindi il 25 di maggio il risultato elettorale del 25 di maggio che avvalora la tesi la supera addirittura e poi quello che è accaduto dopo ed è accaduto dopo sono accaduti sei mesi di governo questa sera non è che noi discutiamo di che cosa del resoconto di questi sei mesi di governo ma insomma ciascuno di noi ammette cosa sta accadendo in questo periodo in questi mesi sia Luca in una posizione nevralgica sia io in una posizione più di fatica diciamo così di minore apparenza ma di fatto non che lui non fatica i testimoni che lavorano la mattina presto la notte eccetera ne siamo testimoni di una fatica enorme sempre è stato faticoso governare ma adesso lo è ancora lo è ancora di più e poi il passo dopo passo che io l'ho detto subito per quel poco che posso dire e posso commentare a me piace molto a me piace non perché costituisce o espressione di un rallentamento di una di una come si può dire di un cedimento alla rapidità dell'azione di governo ma perché acquisisce in troida in modo pieno la necessità di uno sforzo riformista incisivo radicale che poiché non può essere affidato ad una misura shock quella misura shock che è stata invocata per decenni o per negli ultimi anni comunque ciclicamente la misura shock o il totem di vario genere che sono stati invocati va affidato alla pazienza decisa determinata del governo passo dopo passo ecco queste sono le cose che sono accadute e in un arco temporale così ristretto e in un tempo così ravvicinato all'edizione di questo libro costituisce un fatto difficilmente rintracciabile non già non solo nella storia letteraria diciamo così del nostro paese di questo tipo di letteratura politica ma anche nella vicenda politica in senso proprio in senso stretto e allora adesso che facciamo questo è mi chiedo e mi chiedo e lo dico motivando un pochettino e riprendendo alcuni temi che pone Cerasa nel libro lui non è solo non dà solo assist al nostro segretario a Matteo Renzi gli è nato una dose massiccia ma fa anche qualche critica pone anche qualche dubbio e anzi prevede anche qualcosa dal suo punto di vista difettoso a proposito per esempio del quattro potere anche a me piace quella espressione del potere acquattato io in questi anni ho imparato non a frequentarlo ma a riconoscerlo questo sì più o meno si capisce di solo e quindi però ecco io richiamo questo punto per dire che la sinistra italiana e la quale io ho sempre militato quando avevo i pantaloni in corti come voi sapete bene non è e non voglio sminuire le catene diciamo così ma non è che nel corso degli ultimi 30-40 anni non ha provato a cambiare non ha provato a rompere i recinti ci ha provato e cito due momenti due fasi che molti di voi più giovani lo riconoscono meno il primo un pochino di più il secondo che non hanno avuto un esito positivo e facciamo gli scongiuri io poi dirò che non la penso così e in queste settimane in questi pochi giorni che il governo ci ha concesso di riposo ho avuto modo di leggere in questo bellissimo libro di Francesco Piccolo il desiderio di essere come tutti e devo dire che l'accostamento delle due letture è stato molto utile c'è una qualche interrelazione tra i due libri pur essendo molto diversi gli autori e il loro contenuto e lì viene descritto in un modo efficace in questo e chiudo Marco stai tranquillo e in questo anche perché ricordo l'anno scorso mi sono esercitato nella lettura delle massime degli aforismi di Winston Churchill ma questa è una cosa mi ha colpito moltissimo di quegli aforismi Luciano sicuramente l'avrei letto perché tu ne farai un uso uno tra tutti e cioè il Churchill che si presenta davanti alla Camera dei Comuni un giorno una mattina e dice io vi devo chiedere perdono perché oggi vi farò un discorso lungo ma vi farò un discorso lungo perché non ho avuto tempo di prepararmene uno breve ed è bellissimo fare interventi sintetici richiede molta preparazione diciamo così io ne ho avuto poco tempo e detto questo dicevo il compromesso storico ben lì chi di voi l'ha vissuto io vi ho andato ci ricordi fu un passaggio epocale fallito per effetto del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e anche per la resistenza l'esito fruttuoso di quella grande scelta politica di Berlinguer e di Moro avrebbe cambiato il corso del paese adesso non sappiamo come nessuno di noi può dire come e poi il tentativo serio negli anni migliori dell'Ulivo l'Ulivo in sé e poi il Partito Democratico di un approccio riformista molto forte noi tutti ricordiamo che l'esperienza breve e contrastata dell'Ulivo richiama alcune scelte insospettabili per la sinistra a proposito di Cateria le privatizzazioni sono state fatte male sono state fatte bene ma le privatizzazioni le fece il centro-sinistra quelle più impattanti le liberalizzazioni il miglior bersane diciamo così che abbiamo conosciuto e poi un argomento che va molto di moda che ci impegna a Palazzo Fingia a via 20 settembre in questi giorni la spending review io c'ero fui relatore di quella finanziaria il compianto Tommaso Padeoschioppa che secondo me è stato uno dei migliori ministri dell'economia perché faccia parte dell'elenco che Claudio che Claudio Cerasa diciamo indica come sintomatico di personalità di valore anche lui lo sa che sono di valore asintomatico di questo legame un po' incestuoso diciamo così tra la sinistra e i cosiddetti poteri forti la vera spending review che è esattamente quello che si tende di fare oggi nel metodo fu tentata cioè da Padua Schioppa cioè in quegli anni in cui si diceva dobbiamo ridurre la spesa pubblica ma la possiamo fare solo incidente sulla causa genetica sui meccanismi genetici della spesa non tagliando ci fu un lavoro serissimo quindi facendo una scelta selettiva esercizio della discrezionata politica ancora di più che non l'esercizio politico dell'allocazione delle risorse è facile distribuire risorse è molto difficile togliere risorse dico questo perché quei tentativi quando furono fatti suscitarono una grande aspettativa adesso noi non possiamo invece fare in modo che questa grande aspettativa che si è espressa dal voto che mi risulta resiste anzi si rafforza mi costa per quel poco che diciamo di valutazioni per quello che contano in questo momento storico noi non possiamo questa è la volta in cui non si può fallire non si può sbagliare ma non si può fallire non si può sbagliare non già perché in questo modo fallirebbe un tentativo politico o una leadership politica certo c'è anche questo che per il nostro partito sarebbe un fatto distruttivo ma perché il paese non oso neanche pensare a che cosa potrebbe accadere all'Italia al nostro paese se il tentativo di riforma dei mille giorni di Matteo Renzi fosse bloccato arrestato e fallisse ecco perché insomma io credo nella politica del passo dopo passo nella speditezza nella radicalità nella capacità di cambiare in profondità il nostro paese e poiché è chiudo Claudio Cerasa ha dato alcuni degli incipit a questo momento storico aspettiamo un momento spero fra 3-4 anni in cui lui ci racconterà come la deve come la vede ex post e io sono ottimista perché sono convinto che noi riusciremo a cambiare questo paese grazie grazie Giovanni devo dire io oggi ho avuto il tuo etimo il primo più lungo era legato al tempo e su questo ha avuto ragione Luciano perché ha preteso che si facesse qui all'aperto e comunque ringraziamo la fondazione Centica Bruzzo che ci aveva consentito l'opportunità del Petruzzi in caso di ricovero ringraziamo pure l'Iberia Fettinelli che ha messo un banchetto lì dietro non si vede in cui sono disponibili le copie del libro lo dico perché loro hanno fatto un po' un sacrificio a prestarsi sono trovati anche un po' spiazzati quindi il libro è bello non voglio fare diciamo il marchettaro però la cosa ha il suo valore alla fine i libri si stampano perché si può e dicevo ho avuto due timori il primo che piovesse il secondo l'ho avuto istantaneo quando Giovanni ha detto sto per terminare ed è passato al compromesso storico e ha detto la situazione è drammatica allora il libro vi dicevo prima che è molto bello anche per l'uso straordinario che Claudio ha delle immagini per spiegare le immagini a metafora che sono molto vivaci vi leggerei solo i titoli per farvi intendere qualcosa il quanto potere l'ha citato prima Giovanni ma la cosa bella è quando parla della nuova generazione che sta scardinando un po' canone della politica e parla della generazione bim bum bam la generazione che è cresciuta diciamo in quegli anni 80 guardando quella fortunata trasmissione di cartoni di matri è la mia generazione ma soprattutto la generazione dei due protagonisti delle istituzioni il sindaco di Pescara e l'onorevole Antonio Castelgone che ci portano il loro saluto entrambi vivono la difficile condizione della Bars Construence e quindi darei subito a Tony l'opportunità di parlare però Tony ci conosci sai che non sono riesco ad essere quindi sei preparato ho letto il libro tant'è che a pagina 81 ho chiamato l'autore e gli ho detto è il caso insomma di presentare questo libro di fare un'iniziativa a Pescara e poi siccome Luciano si era mosso anche lui in questa direzione ci ritroviamo qui oggi a presentare questo libro che devo dire come Marco neanche io voglio promuovere eccessivamente questo libro però lo dico senza piageria è un libro di cui personalmente condivido tutto e non è facile condividere tutto in un libro e lo condivido avendo vissuto questo ventennio di cui si parla in questo libro in un'età diciamo decisiva cioè dai 20 ai 40 anni e avendo iniziato a fare politica nel 94 vent'anni fa proprio diciamo in questo ventennio dominato da Berlusconi e dominato culturalmente nella sinistra che ha visto in Berlusconi questo unico punto di riferimento da combattere e ci sono diverse catene e sono catene pesanti e sono catene che realmente esistono nel centrosinistra nel partito democratico nei partiti che hanno preceduto il partito democratico e fra queste catene se dobbiamo spezzarle penso che anche nel linguaggio anche diciamo in una certa sfrontatezza dobbiamo dirci alcune cose che la catena più pesante più difficile che più ci stringe culturalmente a noi è quella del rapporto fra noi e la magistratura perché su questo noi abbiamo sempre il timore siamo sempre ricorsi alla formuletta del rispettiamo il lavoro non che non vada a rispettare il lavoro ma rispetto a questo penso che noi dobbiamo anche cominciare a dire cose diverse rispetto a quelle che in questi vent'anni abbiamo detto oggi discutiamo di una riforma della giustizia penso che sul tema della separazione delle carriere sulla responsabilità dei giudici qualcosa di diverso noi dobbiamo dire rispetto a questo ancoraggio stretto che noi in questi vent'anni abbiamo voluto e per certi versi è stata la nostra necessità come l'autore diceva cioè la necessità di avere una spina dorsale attraverso i fatti di Tangentopoli la necessità di avere un'altra spina dorsale in questo anti-berlusconismo e che cosa avviene cercando di essere brevi Marco che poi il 25 aprile c'è un risultato straordinario c'è un risultato che va esattamente in controtendenza rispetto alle cose o almeno così sembrerebbe rispetto alle cose che l'autore dice ma se l'andiamo a vedere va esattamente in quella direzione perché ci sono alcune cose che vengono a mancare Berlusconi così come era come è stato in 20 anni il rapporto fra noi Berlusconi comunque un approccio diverso rispetto alle questioni di governo rispetto al nostro modo di intendere il partito e rispetto e questo è essenziale tornando a bim bum bam rispetto al nostro modo di vedere percepire e interlocuire con la società non pensando che ci sia perché questo è stato uno dei difetti della sinistra che ancora si porta dietro una presunta superiorità culturale anche una presunta superiorità morale che in qualche modo ci ha tenuto lontano ci ha messo a distanza dal popolo medio e conseguentemente nel momento in cui alcune di queste cose le abbiamo cominciate a scalfire siamo riusciti ad ottenere straordinariamente un risultato diverso che opera anche di questo modo sfrontato che qualche anno fa Renzi ha circoscritto nella parola rottamazione ma che non è solo la rottamazione di D'Alema Bersani e Beltroni per me non fanno differenza ma che è esattamente quello che noi stiamo vedendo in questi mesi di governo una lotta forte con un altro pezzo di catena che è quello dell'apparato dello Stato di questo Stato nello Stato che è una di quelle altre catene che in qualche modo hanno fortemente imbrigliato l'azione di governo nostro io penso che l'azione vera qualificante e la scommessa vera del governo Renzi sia esattamente questa se riusciamo a modificare questo stato di cose e questo rapporto fra la politica e pezzi dello Stato della burocrazia e una delle cose chiudo rapidamente che a me mi ha colpito di più in questo anno di esperienza parlamentare che poi ci ritroviamo nelle commissioni con i provvedimenti con gli emendamenti e che cosa succede a un certo punto che la politica pensa una cosa e si dice e con questo non mi riferisco al sottosegretario perché qui è la burocrazia ma il MEF dice di no e questa cosa non si può fare no ma purtroppo se fosse la politica del MEF poco male e che sono diciamo i boiardi di Stato diciamo del MEF sono i direttori e i dirigenti del MEF e questo è uno dei pezzi quindi rispetto a questo la lettura del libro è attuale ancora oggi io penso che piuttosto sia una specie di diario di bordo per i prossimi anni di governo cioè per vedere le cose gli errori che noi non dobbiamo ripetere le catene che non dobbiamo imbrigliare di nuovo intorno a noi questo è perché questa straordinaria vittoria delle elezioni europee del 25 maggio è tale nella misura in cui noi spezziamo definitivamente queste catene dobbiamo avere il coraggio di dirlo anche in questa piazza quali sono le cose che ci hanno attanagliato e quali sono le cose le quali ci siamo legati facendo sì che la sinistra in questo paese andasse molto al di sotto di quello che appunto normalmente rancogli in termini di consenso in qualsiasi paese europeo grazie grazie Antonio è stato decisivo e è riuscito a condensare molti aspetti critici e complessi il suo saluto vi dicevo prima diceva giustamente Giovanni è un libro sulla parte Dersuens poi la Pasqualsuens infetta questo è un grande problema che si provava a fare un sindaco perché di cose distruttive sul campo ce ne sono molte soprattutto a Pescara abbiamo un comune quasi al prelissesso ieri sera nello sforzo diciamo di avviare l'installamento di una buona politica perché a Pescara non accade quello che è stato nelle società siciliane che è stato in governo a dover diciamo intervenire pesantemente noi stiamo cercando di intervenire per rimettere in sicurezza il comune però adesso viene la parte difficile caro sindaco adesso si tratta di costruire mentre chiediamo ai cittadini che ci giudicano di condividere questo grande sacrificio quale la roba buonasera grazie caro un po' buonasera a tutti cosa c'è di meglio di una serata all'aperto non piove neanche voi siete molto numerosi e io ho un problema dovrò per forza di cosa essere cercilliano per riprendere lo spunto dell'onorevole Legnini ma non già perché mi sono preparato ma perché spero l'autore mi perdoni non ho avuto ancora modo di leggere il libro colperò questa lacuna peraltro come c'è ricordato la Feltrinelli svolge un servizio quasi e questo in qualche modo mi dispiace particolarmente perché mi piace molto la presentazione del libro come occasione di dibattito e allora diciamo sulla fiducia e anche in base alle parole che sono state dette sono certo che la penna di Claudio Cerasa molto noto anche per ragioni televisive insomma sarà stata accubinata al punto giusto allora faccio però quest'altra riflessione che in qualche modo si lega con il lancio ovvero la mia introduzione se non ho capito male spezzare le catene è finalizzato a liberare il vento diciamo della buona politica cos'è la buona politica? io penso che la politica non possa basarsi sui diannunci ma sia una questione di quotidiano avanzamento di metro dopo metro se vogliamo centimetro dopo centimetro perché insomma parafrasando io a me invece piacciono molto le citazioni parafrasando un celebre discorso di Al Pacino in un film la vita è una questione di centimetri ci sono centimetri in tutte le parti del campo e quindi bisogna muoversi in questa direzione con l'idea cioè che la barchetta magica non ce l'ha nessuno tantomeno diciamo un sindaco che rappresenta in qualche misura la prima linea dell'amministrazione che ha a che fare quotidianamente con una catena di problemi e di questione però l'idea è quella della gradualità delle cose dell'impegno quotidiano magari anche oscuro magari anche di lungo periodo perché appunto occorre essere in grado di programmare e pensare cosa succederà fra qualche tempo per lo meno cosa succederà nell'arco di 5 anni che è il tempo che dura una consiglia dura e questo significa anche come in qualche modo è stato ricordato confrontarsi con sicuramente l'esperienza meno gradevole che può avere un pubblico amministratore quella cioè di mettere mano alla leva fiscale come si dice con terminologia un po' politichese ovvero assumere iniziative sul piano della tassazione locale indispensabile per fare in modo che l'amministrazione comunale di Pescara abbia una base da cui partire perché diversamente temo che l'istituto civilistico del fallimento che non si applica ai comuni che si chiama dissesto predissesto default perché c'è anche una cosmesi delle parole delle maschere che le rende meno impattate beh ecco sarebbe una prospettiva temo ineludibile bisogna avere credo il coraggio la responsabilità appunto di scelte impopolari perché non sempre si può piacere subito ma scommettere sul futuro sulla capacità di costruire centimetro dopo centimetro un percorso proprio perché avevo detto che sarei stato molto cercilliano mi avvio la conclusione però consentitemi una piccola diciamo notazione sullo spunto fornitomi dall'onorevole Castricone perché confesso una riflessione che ho fatto spesso anch'io cioè quella legata alla questione della cosiddetta presunta superiorità morale che evidentemente è stata una catena molto stringente nei confronti di un centro-sinistra che per vent'anni comunque superiore o meno fortalmente si è giocciato per Busconi e ora perché vi dico questo? perché ho notato che questo atteggiamento lo vedo molto diffuso nell'ambito della novità politica di questi anni di questi ultimi tempi ossia il Movimento 5 Stelle l'esperienza in Consiglio Comunale mi mostra una certa la dico grossa però è quello che penso tracotante siccome era l'idea cioè di essere investiti dall'alto e di essere depositari della verità penso che la verità va cercata come insediva di oggi ma con una lanterna che ci guida nella sera buon proseguimento a tutti e grazie grazie al sindaco e ora veniamo alla parte degli interventi che però diciamo cerchiamo di chiudere per le 8 più o meno anche perché poi ci sarà un momento diciamo di ospitalità un ospitalità che ci viene offerto da Capris qui di fronte una bevanda per rinfrancarci e cominciamo con gli interventi veri e propri e il primo è quello di Luigi Vicinanza attualmente direttore editoriale del gruppo Fineggil che è ben noto qui a Pescara perché per molti anni è stato direttore del centro principale quotidiano della regione di Bruzzo peraltro lo è stato se ricordo bene anche nel periodo più drammatico della nostra regione per il terremoto insomma una grande conoscenza di questo ospitalità ora il libro le suona parecchio anche ai giornalisti e soprattutto al fenomeno curioso che è accaduto nella politica italiana soprattutto negli ultimi vent'anni cioè dell'accessione come dice il libro progressiva inesorabile di sovranità fatta nei confronti degli intellettuali dei registi degli scrittori il cosiddetto nannimo rettismo e il fatto che certamente il gruppo editoriale che peraltro è il medesimo del direttore soprattutto attraverso la sua nave corsare la Repubblica per molto tempo ha dentato l'agenda alla classe dirigente di quello che era il BBS poi BBS è il Partito Democratico solo in un anno lui comunque penso che abbia diciamo letto con piacere questo libro proprio che proprio oggi sul centro è stato ripubblicato un suo articolo proprio su questa generazione di Bumbam e in esso si coglie secondo me con molta efficacia la critica all'intervento di Pippo Civati che diceva secondo la resi di Cerasa che la sinistra debba essere la destra invece mi sembra che vicinanza abbia colpo che l'idea del libro è quella che la sinistra debba essere una sinistra che non è più quella di prima perché è cambiato il mondo quindi deve cambiare anche la sinistra e su questo gli do la parola grazie grazie a tutti quanti voi innanzitutto a voi che ci state ascoltando e voglio dire all'amico e al collega Cerasa guarda qua guarda noi siamo in un posto magico è la prima volta confesso di partecipare a un dibattito in questa piazza siamo all'ombra del campanile di San Centeo che è il matrono della città in una piazza del centro storico con le sculture di cascella che sono fatte con la pietra con il marmo della maiella irripetibile alle spalle abbiamo il fiume e io credo che soltanto la fantasia al quadrato del sindaco Alessandrini e del presidente D'Alfonso potesse scegliere questa location perché anche questa location se vogliamo è renziana è una scelta renziana fuori dai salotti nelle piazze torniamo nelle piazze torniamo a guardarci torniamo a confrontarci torniamo a contarci non ci sono neanche i gufi li hanno mandati via ci sta persino il bel tempo perché? perché è vero la sinistra ha bisogno di rifondare anche passi dall'aeroporto come voi capite e speriamo e speriamo presidente che continui come dire a fare traffico quest'aeroporto però resta il grande collegamento internazionale di Pescara e dell'Abruzzo perché la sinistra ha bisogno di rifondarsi non mi sottrappo alle sollecitazioni dell'amico Presutti sul libro il mio giudizio lo ha espresso stamattina nella recensione sul centro chi vuole può andare a vedere è un giudizio sostanzialmente positivo del libro e ringrazio il direttore del centro Mauro De Meschini che è qui in prima fila e saluto con stima per la generosità con cui ha immaginato il mio articolo e chi vuole se lo va a leggere per avere un'idea di che cosa penso del libro io voglio soffermarmi su un punto ecco non mi sottrago alla simpatica sollecitazione di Presutti c'è stata una tendenza in questi venti anni del trasformare la sinistra in un grande partito radicaleggiante senza più radicamento sociale senza più il contatto con la sua base mentre Berlusconi sapena perfettamente a chi chiedere i voti e tutte le uscite pubbliche di Berlusconi erano a difesa delle partite degli evasori del mondo del sommerso del mondo grigio e oscuro che sta nel mezzogiorno d'Italia ma non soltanto nel mezzogiorno d'Italia la sinistra si è trasformata appunto in una sinistra salottina che aveva perso il contatto con la sua base sociale non difendeva più i suoi riferimenti storici e dunque era smarrita era un grande partito radicale che navigava in fondo al 20% devo dire che con Renzi c'è stato un evidente mutamento di rotta la scelta la scelta degli 80 euro giusta o sbagliata che sia è una scelta di giustizia sociale di redistribuzione della ricchezza in questo paese e chi dice che non ha avuto effetto la nostra economia credo che compia come dire un giudizio abbastanza affrettato io non sono laureato in statistica ma so benissimo che i dati di un mese non sono sufficienti per dare come dire una indicazione una tendenza che ci sia l'altro riferimento alla scuola annuncite o non annuncite ma il riferimento alla scuola cioè riportare la scuola al centro dell'attenzione del paese è una grande scelta di sinistra cultura famiglie giovani è una scelta di sinistra risistemare 150.000 precari è un modo giusto di affrontare la questione poi vedremo se sono capaci di farlo vedremo se avranno i soldi per trovare tutto questo l'hanno già annunciato tante volte e l'hanno rinvito ma vedremo però intanto il fatto di parlarle è una scelta cioè significa avere un blocco sociale di riferimento su questo io credo che la svolta la svolta ci sia naturalmente non tutto però va per il meglio ed un'altra delle questioni che forse interessa poco il bilancio delle famiglie che è la questione centrale in questo momento ma che pure conta riguarda la giustizia ha fatto un riferimento l'onorevole da Srigone e io credo che proprio qui a Pescara proprio qui in Abruzzo noi non possiamo sottrarci dall'affrontare in maniera sincera e se vogliamo anche un po' come dire fuori dal protocollo la questione perché qui in Abruzzo negli anni passati io ero appunto direttore del centro in quel periodo per mano giudiziaria è saltata un'intera classe dirigente di sinistra un'intera classe dirigente e per anni c'è stato invece un ribaltamento delle posizioni e si è formata una classe dirigente poi sconfitta alle recente elezioni una classe dirigente di centro-destra che probabilmente senza quell'intervento giudiziale non avrebbe mai conquistato il potere sempre per dire le cose con estrema chiarezza ma c'è un giornale se siamo ubicati a parlare con estrema chiarezza l'attuale presidente della regione era il sindaco di Pescara e la sera delle elezioni regionali del 2008 frutto di un intervento giudiziario ebbene il sindaco di Pescara mentre tutta Italia stava guardando i risultati elettorali viene arrestato perché l'annuncio venga dato in diretta a porta a porta e infatti io scrissi in quel mio frenetico commento di quella frenetica notte che persino in quell'occasione Luciano D'Alfonso era stato capace di oscurare Gianni Chiodi nel bene o nel male assolto in primo grado e abbiamo imparato a nostre spese noi giornalisti da vent'anni a questa parte che le procure non sono il concentrato delle verità non lo sono affatto e devo dire che Cerasa affronta molto chiaramente questo aspetto nel suo libro assolto in primo grado il candidato D'Alfonso si sottopone alla sfida elettorale viene eletto e credo che la vostra presenza qui sia la conferma del consenso che lo segue però resta tutto il tema del rapporto che la sinistra e principalmente il partito democratico intrattiene con il mondo giudiziario e in particolare con le procure è stato un rapporto subalterno ce lo dobbiamo dire con chiarezza in questi vent'anni è stato un rapporto subalterno perché in vent'anni di come dire di berlusconismo cialtrone e dilagante o si era garantisti pelosi perché si stava con gli impresentabili o si diventavano manettari inconsapevoli per non stare con quella gente questa diciamo ripartizione da tifosi da curva A e da curva B non ha aiutato la sinistra assolutamente non ha aiutato e ancora qui posso dire mi dispiace che non ci sia il sindaco dell'Aquila ma l'Usa spero che ci potrà essere occasione comunque c'è il gruppo dirigente del partito brunzese qui cosa cosa fa la sinistra all'Aquila in un momento delle ennesime crisi delle tante crisi che attraversano quella città bellissima e sfortunata il momento di crisi proprio determinato da una questione giudiziaria da una questione etica chiama come vice sindaco che il pensionato procuratore capo di Pescara quello che negli anni precedenti aveva decapitato il gruppo dirigente beh io lo trovo un cortocircuito del ragionamento politico straordinario e mi piacerebbe che prima o poi qualcuno le possa spiegare per cui caro caro Claudio come dire ben vendano come le sollecitazioni perché la sinistra ha bisogno di discutere profondamente che cos'è che cos'è stato che cos'è innanzitutto che cosa vuole essere grazie per l'attenzione grazie al direttore che ci ha regalato un intervento che non ha risparmiato niente e nessuno è il momento dell'autore Claudio Cerasa come lo ha definito in una recensione direi agrodolce un suo collega Michele Michele Arnese è un mistero è un mistero perché è un giovanissimo 32 anni ma ha già scritto questo quello sia il suo terzo libro ha una capacità di scrittura monstruosa sia nella quantità certamente anche nella qualità perché fa decimila cose contemporaneamente twitta aggiorna il suo blog Cerasa sulla pagina online del foglio scrive delle paginate terrificanti alle volte sul foglio fa immagino da capo redattore il lavoro ovviamente editoriale che è necessario per mandare avanti il giornale scrive appunto questi libri di tutte queste pagine quindi veramente ci si domanda e poi sembra che abbia anche una vita intensa rappresenta un caso ecco questo è un grande mistero un caso straordinario di intervista di successo una cosa quasi veramente misteriosa quasi improbabile diciamo anche là ovviamente e in tutto questo lui ci offre questo libro e gli voglio offrire questa questa suggestione lo scrivere le parole nel 1996 all'epoca ero giovanissimo pure io partecipavo a una festa nazionale diciamo dei popolari qui ci fu bellissimo dibattito tra quello che era in quel momento il più importante esponente della sinistra che era Massimo D'Alema e Mino Martino Azzoli che da grande vecchio iniziatore da un libro polari secondo me lucidamente capì alcune delle critiche che sono espresse in questo libro lui gli disse e fu secondo me molto profetico secondo me voi imporrete questo rischio Marx nelle tesi a Feuerbach aveva scritto i filosofi hanno descritto il mondo diciamo adesso noi vogliamo cambiarlo la mia impressione diceva Martina Zoli a D'Alema che in quell'occasione rimase un po' fulminato gli disse la mia impressione è che voi ci stiate dicendo siamo stanchi di cambiare il mondo adesso vorremmo descriverlo la mia riflessione è questa però è descrivere l'attività del giornalista alla fine quasi tutti questi dirigenti della sinistra sono giornalisti lo stato D'Alema lo stato Beltroni ma non è che sarà stato un problema dei giornalisti la parola la parola per conoscenza dei fatti D'Alema è diventato giornalista dopo una lunga militanza politica la parola a Claudio intanto grazie di essere venuti qui questa sera perché è un bellissimo pubblico ben partita fantastica io confesso che conoscevo poco Pescara sono venuto quest'estate la prima città che mi viene in mente era Barcellona perché poche altre città hanno mare in centro bellissimo adesso non per pioggeria ma molto bello per capire bene di cosa stiamo parlando per capire anche il senso di questo libro ci sono tre personaggi che poi sono i reali protagonisti di questo libro che forse conoscerete Nanni Moretti che Consalone e Antonio Cassano che probabilmente avrete sentito tutti quanti nominare qualche volta perché sono i veri protagonisti perché il libro d'accordo spiega quali sono le grandi minoranze conservatrici che per vent'anni hanno tenuto in ostaggio la sinistra e di conseguenza del paese perché la retorica di questi anni ci ha fatto quasi sembrare che negli ultimi vent'anni ha governato soltanto Berlusconi 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 e dice anche a governare il centro-sinistra poi che nessuno si sia accorto che il centro-sinistra ha governato è un altro paio di maniche però è andata così insomma la storia ci dice questo che cosa c'entra Nanni Moretti che Consalone e Antonio Cassano c'entra perché le catene che la sinistra deve spezzare per non solo vincere le elezioni ma anche governare il paese sono delle catene principalmente culturali perché insomma la rottamazione la fase 1 quella del mandare a casa le persone che hanno fatto la loro storia che non hanno molto più da raccontare al paese alla sinistra ormai è entrata assolutamente in vigore pensate ai toluccio di queste state e degli ultimi mesi qualcuno si ricorda D'Alema chi è un talento la persona che parla e tanta personalità o nessuno si ricorda più esattamente che cosa ha fatto Bersani si qualcuno si ricorda gli altri grandi dirigenti del Partito Democratico stanno facendo altro e se pensate come è andato avanti in maniera veloce la storia del centro-sinistra un piccolo dato un anno fa Renzi il sindaco di Firenze adesso fa qualche altra cosa già questo è mostruoso per capire con che velocità si muovono i processi la prima rottamazione che consiste anche nella prima catena spezzata riguarda Berlusconi per vent'anni la sinistra ha pensato in maniera molto concipirante di combattere Berlusconi utilizzando cosa? L'arma davanti il berlusconismo il risultato qual è stato? che la sinistra ha regolarmente perso le elezioni e ha vinto le elezioni in quale occasione? soltanto quando gli avversari si sono presentati separati è successo nel 96 è successo nel 2006 è successo sempre è successo in tutte le occasioni in cui Berlusconi la Lega l'En e tutti quanti i vari alleati non si sono presentati insieme la sinistra la sinistra storicamente vince soltanto quando gli alleati non sono coesi e in un certo modo adesso non per fare di l'ufo ma il rosicone ma alle ultime elezioni europee in cui il Partito Democratico ha raggiunto un risultato muscoloso 40,8% è una cosa incredibile bisogna anche dire che gli avversari dove erano? non c'erano era una casa Grillo è rimasto a Genova con la maschera nascosto nel suo bunker Berlusconi era Cesano a Boscone gli altri avversari nessuno si ricorda neanche chi fossero quindi Renzi ha avuto un merito straordinario perché ha spezzato alcune catene ed si è avvicinato alla pancia del paese però bisogna anche dire che dobbiamo aspettare le future elezioni per capire se ci saranno gli avversari e per capire se sarà possibile batterli Nalli Moletti c'entra perché ha rappresentato tutti questi anni l'anti-berlusconismo viscerale il caimano il personaggio cattivo quello che andava combattuto in tutti quanti in tutto e per tutto se una cosa la diceva Berlusconi quella cosa doveva essere sbagliata finché la diceva Berlusconi siccome gli italiani sono stupidi e molte cose mi diceva Berlusconi anche se non erano Berlusconiani magari le condividevano vedendo la sinistra che si contrappone in maniera ideologica a quelle cose diceva d'accordo ragazzi io mi sarei simpatici siete carini ben pettinati voglio obese bravi persone ma io non mi voto perché mi contrapponete in maniera ideologica e non mi dite le cose giuste da fare Renzi che cosa ha fatto? ha rottamato l'anti-Berlusconismo e ha battuto Berlusconi non era proprio difficilissimo e cosa ha fatto? ha invitato Berlusconi ricordate? gennaio invita Berlusconi nella sede del Partito Democratico per scrivere insieme la legge elettorale scandalo la sinistra di quella che va in aereo con Civari che si indigna e dirà avere orgogna avete violato il corpo del Partito Democratico è inaccettabile invece Renzi cosa ha fatto? non ha regalato la sinistra alla destra ma semplicemente accogliendo Berlusconi dentro la sede del PD ha aperto le porte dell'elettorino di Berlusconi una cosa abbastanza lineare e semplice e così è andata le ultime elezioni europee molti berlusconiani molte persone centrodestra hanno votato Renzi e oggi forse itali al centrodestra gli elettori storicamente legati a quel mondo culturale sono in grossa difficoltà perché vedono Renzi e dicono beh questo ragazzo in effetti dice le cose di buon senso non si contrappone a noi soltanto perché quelle cose le abbiamo detto noi in passato adesso Renzi facendo delle cose anche un po' berlusconiane insomma non è un mistero sono alcune cose che sono state promosse da Berlusconi Berlusconi non è mai riuscito a farlo adesso forse Renzi ci riuscirà è una cosa che è una battuta ricordate Berlusconi quanti posti di lavoro aveva promesso erano un milione se sommate i 200.000 posti di lavoro che ha promesso Moletti quando ha fatto il decreto i 100.000 posti di lavoro che sono stati promessi con la scuola insomma arriva anche qua un milione quindi Nanni Moletti è stato rottamato è stata rottamata anche la cultura cinematografica è stata rottamata anche l'idea che la pancia del paese fosse un problema e qui abbiamo anche Cozzarone che rappresenta una catena che forse la sinistra deve spezzare ancora ma ci siamo quasi che significa il paure di Cozzarone che poi è un po' il sottotituto di questo libro significa che per molto tempo la sinistra ha avuto paura della cultura popolare della cultura pop tutto ciò che in qualche modo era figlio anche della divisione commerciale quante persone di sinistra conoscete che in maniera un po' snob magari siete anche qui davanti a me non lo so faccio una moltissima figura però quante persone odiano che è Cozzarone perché lo considerano un prodotto vergognoso della televisione che non ha su un tipo di legittimità a essere paragonata a Sorrentino ad altri grandi registi tante ma anche il Cozzarone piace la pancia del paese e la Renzi che cosa ha fatto? anche quando è andato in prima serata da Maria De Filippi con Giubbino da Fonsi ha spezzato una catena ideologica e culturale cioè si è rivolto a un tipo di pubblico al quale per snobberia nessun leader di centrosinistra si era mai rivolto quindi è andato a conquistare anche lì un pezzo di paese che Cozzarone rappresenta la pancia del paese in un altro senso anche perché tutti questi anni la sinistra proprio perché non aveva una sua identità si è appoggiata a varie stampelle e ha ceduto la sua sovranità e la sua identità culturale a chi? ai magistrati per cercare di intercettare l'elettorato più moralista e quindi candidiamo di piedra mettiamo il ministro trasformiamo il nostro grande alfiere nella battaglia per il bene si è affidata ad alcuni ambientalisti spesso cialtroni per combattere alcune battaglie ecologiche infatti oggi gli ecologisti d'Italia sono così sono davvero pochi sono più o meno quanti sono le persone su questo palco si è affidata a una serie di personaggi legati al mondo della cultura per intercettare un pezzo della cultura si è affidato a degli imprenditori dei sindacalisti a dei confindustriali per cercare di non accettare il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa facendo un errore clamoroso e pensando che il mondo dell'universo del lavoro l'universo dell'imprenditoria era rappresentato dal nomino di confindustria o dal sindacalista errore clamoroso infatti le persone poi non hanno più votato nel Partito Democratico per queste ragioni la pancia del paese è stata sacrificata perché il piccolo imprenditore è stato mediamente considerato osservato come un problema con un possibile evasore non con una risorsa quindi oggi c'è un tipo di ragionamento invece che mi pare diverso almeno a parole nei confronti delle partite di IVA di un piccolo imprenditore e poi c'è ovviamente il problema un problema di carattere culturale perché il centro-sinistra ha rottamato a parole alcuni vecchi da V ma adesso siamo in una fase molto delicata in cui c'entra anche Antonio Cassano perché Renzi oggi è un po' come Cassano all'inizio della carriera forse qualcuno si ricorda Adriano quel giocatore dell'Inter molto forte che all'inizio della sua carriera fece un gol incredibile contro il Madrid in amichevole destale tutti dissero questo è un fenomeno chissà dove va oggi Renzi secondo me è visto dall'elettorale italiano un po' in crumodolare una persona fenomenale da certi punti di vista che ha un potenziale incredibile ma dipende tutto soltanto da lui questo è il vero elemento culturale di oggi spezzare le catene oggi è possibile Renzi sa perfettamente dove sono le forbici sa perfettamente come si possono spezzare queste catene per cominciare a correre quindi dipende da lui perché gli avversari non ci sono gli antipartizi sono suicidati i principali avversari interni a partito democratico sono i post-bersaniani che come principale atto politico oggi propongono di abolire una legge il cui primo firmatario era Luigi Bersani quindi sono in una fase obbiettivamente un po' caotica quindi dipende soltanto da Renzi e qui arriviamo alla fase finale di un ragionamento in chiudo il governo Renzi oggi deve spezzare le catene deve osservare un precedente storico importante che non riguarda l'Italia ma riguarda la Germania segnatevi questo nome forse qualcuno di voi lo si ricorderà Gerald Schroeder il grande cancelliere tedesco arrivò prima della Merkel in Germania nel 2003 al suo secondo mandato fece una serie di riforme incredibili perché all'epoca nel 2003 il giornale internazionale descriveva la Germania come il grande malato d'Europa il paese che doveva essere riformato Schroeder si è infregato dalla popolarità si è infregato del consenso ha deciso di fare alcune riforme non utili ad avere poi dei buoni voti alle elezioni ma a saldare il paese e a ricostruirlo lo ha fatto ha costretto i sindacati ad autoriformarsi ha fatto delle cose impagolari ha fatto una cosa fondamentale ha utilizzato il consenso non come un fine ma come un mezzo per fare le riforme oggi Renzi per spezzare le cadene lo può fare dipende soltanto da lui dovrebbe forse leggersi ancora una volta il libro che potrebbe essere raggiornato in maniera molto importante il suo pensiero perché dopo due settimane dell'uscita del libro a parte che magari apposito il 40% non può essere un caso quindi come dire occorre andare a essere fatto da parte occorre fare un ragionamento di buon senso fare le cose che servono spezzare le catene perché la sinistra vince e governa quando riesce a conquistare una parte importante del paese quando fa delle cose di buon senso perché le ultime elezioni in questo piccolo dato per concludere importante il Partito Democratico ha preso il 40,8% ma ha preso 12 milioni di voti e se andate a vedere tutte le ultime elezioni dal 1976 fino al 2013 tutte sempre il partito del centro-sinistra prima che ci poi di esse poi di esse con la marchia sempre non sono mai riuscite ad andare oltre i voti 12 milioni di voti è un dato statistico impressionante e questo significa che per conquistare il paese devi non soltanto governare bene ma devi anche convincere le persone che non fanno parte del tuo perimetro politico a venire da la tua parte senza snobberie senza nemole dirmi senza pensare che se una cosa la dice il tuo avversario è una cosa è per forza sbagliata grazie grazie allora visto a un orario e se chi deve parlare più o meno temo che la presenza del 8 diventa un po' ottimistica diciamo diciamo questo 8 e un quarto diciamo allora diciamo D'Alfonso D'Alfonso è anche lui diciamo un personaggio strano come dicevo prima di Cato Cerasa perché è un personaggio che si è formato diciamo che quasi non c'entra con la storia raccontata in questo libro perché questo libro è la patologia della seconda repubblica lui si forma nella prima e interpreta quasi sempre un po' lo stile sull'informazione politica il discorso della rottura e della delle costruzioni di cose nuove quindi molta parte di questo discorso non riguarda però siccome rischiamo che questa presentazione diventi un'ovazione a quello che ha scritto Claudio Cerasa io adesso cerco di metterlo contro l'autore perché c'è un tema che lui cavalca su cui io sono molto d'accordo e qui diciamo è stato cavalcato in senso contrario che è quello della sinistra slow foot cioè come la sinistra si è ritrovata a prigionare degli ambientalisti della matriciana per farmi capire la questione lui introduce questo capitolo riportando una breve rubrica di Camillo Langoni in cui dice la nazione che esporta più pomodori in l'Olanda seguono il Messico la Spagna e la Turchia perché oggi la produzione di pomodori in insalata anche in riva mediterraneo è conveniente solo in serra e le serre sono infamate di energia e l'Italia in energia costano sproposito siccome gli italiani a differenza gli orlandesi degli altri sono signorini schizinosi che non vogliono città nucleari né in carbone non tolerno di rivelazioni né in terra né in mare si oppongono serenamente a terbovalorizzatori e ricassificatori è ovvio che i nostri pomodori siano fuori mercato con i costi di energia che ci troviamo ormai possiamo produrre solo rape che dovrebbero diventare l'ortaggio nazionale il simbolo della nostra idiosia Presidente come la mettiamo?